Fuoco Cosa diavolo è successo È un esperimento fallito guarda che siamo creato un superforte Vieni qua vieni qua vieni qua guarda arrivo arrivo arrivo. Non so cosa sia è un animale selvatico Penso che sia un lama dai ragazzi siamo arrivati dobbiamo buttarci sbrigatevi buttatevi dal bus Come dovete al bus via ma cosa ma siamo fermi Ah ok forse siamo arrivati un pochino troppo in ritardo ma è l'occasione per fare una sfida dei lucky blocci giganti cosa ne pensate questa volta Udire di si affrontiamo i lati di fortnite e ovviamente dovrete fare attenzione Perché sarà parecchio difficile e chi arriverà a 20 morti ovviamente verrà eliminato mentre il sopravvissuto verrà Dichiarato vincitore di questa gran sfida di forte team ma la parola royal non iniziate subito dalla battle royale però Iniziamo adesso 3 2 1 buona fortuna E diamo inizio a questa nuova sfida di l'acqua di gigante subito l'ermi forti vuoi vedere e mi auguro di sì Cose cattive sono successe e ma no ma il creeper sono ancora sono ancora tutti qui ma che inferno mi sa che dovrò Chiedere asilo politico a voi per un pochino Via 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 duca mi aiuti un attimo perché un pochino il problema di creeper si no Guarda che c'ho e va bene sempre meglio di creeper Uhhh guarda che roba non male Già già ho qualcosina già qualche così interessante piano piano una cosettina Che cos'è che cosa è questa roba o mio dio mi sa che è un altro giocatore con una balestra via 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 guarda che roba Scusa non volevo tanto stai seguendo me non ti preoccupare Cosa hai trovato ma quello medici si è roba questo tipo è va bene ma dai meno il tempo di rendermi conto Espi vini che devo farvi provare una cosa in tram Ok d'accordo cosa ho trovato Guarda si porta i creeper si ha vinto Cliccate con il destro e poi saltateci sopra Ok ragazzi io ci provo vediamo che fa Uhhh è un trappolino però uno si fa un mare cane quando terra No 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 Perché l'hai fatto un cripto Cripto È un assassino in questa sfida Ti vorrendo io vero Oh vendetta Espi cosa vuoi adesso è un ospite è a guardia del ponte Allora facciamo così se vuoi se vuoi lo proviamo a coppare insieme d'accordo ma bisogna solo andare a salutarlo Guarda che lo so che ci spara quel coso lo è esplorato pure a me dai vai avanti tu vai avanti tu che Va bene va bene va bene ciò ciò no no fa male prendilo Uhhh guarda com'è schiattato aspetta che mi rifornisco un po' di cibo Adesso smettiamo qualche lucky block insieme Chissà che siamo fortunati dopo questa grande vittoria Ok Oh Fortunatissimi Oh Cos'è questa co No 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 Forse ho trovato la mia prima arma Che spettacolo vediamo come È bellissimo Vabbè Dopo ve la mostro Cos'ho trovato No vabbè questi sono stati dei lacrosi veramente veramente fortunati Un'armatura pure Perfetto No Mi è finito un cane in un pozzo E mi ha distrutto tutto Ma cosa? Eh c'era un pozzo di desiderio C'è finito un cane dentro esploso tutto Adesso sono pure isolato Mi tocca rifarmi il ponte Ah Che è che mi ha Nessuno Che è che mi ha sparato? Luca sei stato tu a spararmi prima? No Di subito la verità Qualcuna Di subito Ah Non spararmi Cosa è quello? Cosa hai in mano? Oh un fucile d'assalto Pronto a prenderti Ma vai ma io tiro solo lo schifo Ma va che prima mi è cecchinato da distantissimo C'è un killer C'è un killer Smettila Luca Tutti abbiamo avuto Oh guardalo Un diverso dagli altri È un altro giocatore di Fortnite Che è spawnato È un assassino silenzioso Voglio provare la mia nuova spada dell'eroe Voglio vedere se è cattiva Non ho grandi che armi Guarda guarda quanto male È troppato dei V-Bucks Eh vabbè Vabbè ma scusa Sono miei Ma come sono No sono miei Ti do una pozione Ti do una pozione Dici Banzai Cosa stai facendo? Stavamo commerciando Ok Luca Allora quel pazzo ci ha fatto esplodere Ma è tornato Vai via Dobbiamo farlo No 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 Cosa hai fatto? Cosa è una pagoda? Cosa è sta roba? No Io dentro Non tu dentro Sicura Guarda che roba È un fortino Di spettacolo Guarda Facciamo lo scambio Espi Prima che Facciamo lo scambio Veloce Funziona davvero Questa me ne faccio Di sti cosi L'ho attivata Mi ha dato Della forza E ora Questa è in aria No Non farlo Non farlo Non farlo Corri 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 Non si è trovato Luca Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Guarda Arrivo 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 Non so cosa sia È un animale selvatico Uuu Penso che sia Penso che sia un lama Normalmente in questi lama C'è un sacco di lutto Un sacco di cose Intanto spacca questo Che potrebbe essere interessante No Sono tanto delle pecore Lama No 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 Sta arrivando Hai sentito Via 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 Spacca spacca Dai 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 Sì Un altro fucile da salto Uuu Bello Io ce l'ho Ce l'ho doppio Va bene Non importa Però Potresti darmene un Uno Il lama Il lama non si è ancora rotto Guarda Forse Forse un lama A doppio lutto Questo lo spacco io Però l'altro l'hai rotto te Vai spacca spacca Vediamo cosa c'è Ragazzi Un lanciananzi Via 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 mio Ma non è vero Ma scusa C'è Cripto Almeno usalo Facciamo così Davvero Signor Cripto Voglio provare una cosa nuova su di lei Ma ti serviranno le munizioni Mi ha fatto esplodere lui Tieni a spi Le ho trovate prima Uuu Sono munizioni per il lanciamento Ok Finalmente possiamo vendicarci Se me le chiedevi Magari al posto che ruparmelo Ti scraziato Va bene Guardalo lì Guardalo lì Non si aspetta nulla Ma cosa Tu ho sparito Tu ho sparito Hai fatto per la sentia E vabbè Senti la sede Si ricostruisce Un po' di legno E tu si scala qui adesso Dove è finito lui Dove è lui Cripto Guarda Guarda che miro Al tuo spawn point Lo sai che lo faccio Cosa fai? Faccio questo Porca un po' più Ah no Maledetto No Cosa Adesso ti prendo Adesso ti prendo Cripto Uuu Dove siete SPSP Ti serve una Decisamente C'è Cripto Che ci sta bersagliando Prendi questo Uuu Nello spawn Ma cosa Sono già missili OP Attento però alle spalle Luca Attento alle spalle Che ci sono i creeper Oddio Oh no Oh no Si sta venendo Una scala Una scala Una scala Affetto Andiamo a colpirlo Cosa Chi arriva prima Arriva prima Luca Oh no 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 Luca è arrivato prima Ma io all'artiglieria Ho finito le munizioni Ho finito le munizioni Espi dove sei Mi serve una mano E come faccio Mi ha presi in testa Non ti preoccupare Ti vendico Luca Mi sa che devo usare Un altro Devo usare un altro po' Di missili pesanti Vieni qua Vieni qua Vieni qua maledetto Ho trovato uno scardorato Ma no è tipo L'arma più forti Espi hai visto Cosa ho visto A parte il mio Nuovo scardorato Che cosa Non mirarmi con l'arco Guarda No 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 Anche un arco Iniziamo un duello Vieni Luca Ti facciamo un truello No no basta Con i truelli Porca miseria Non voglio un truello Voglio soltanto capire Cosa mi vuole dire Non farti scappare Le frecce Che sono pericolose Oh no Cosa sta per cadere Cosa per cadere Cosa da provare Corri cripto Corri No 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 Cosa da provare Luca Prova dopo Prova dopo È pericoloso Vai Luca Colpisci lì Colpisci Luca Mi ha colpito Chi mi spara Chi mi sta sparando Nessuno Luca Non fare il furbo Da dove mi stai sparando Non lo so Sentito di colpi vicino a me Magari questo muro Espi Non fare queste cose Cripto Non farle Neanche per scherzo Mi tolto quasi metà vita Luca Stai per spuntare fuori Ma sei morto Perché le granate esplodono No le granate esplodono Quello ti assicuro che lo fanno Poi dove le lanci Sono a fare i tuoi Mi sa che Luca Si è rifugiato In suo stesso Spongebio Ci sta sniper Oppure è lì Il nostro caro Luca Boom Adesso mi rifugio Sì nello spawn Per attivinirmi a prendere No 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 Non puoi camperartela Così nello spawn Luca Dai Vabbè Se se la campera Lo andiamo a prendere Visto che gli piace Sniperarci dall'alto Andiamo alla prendere Al suo spawn Quello maledetto camperone Vieni qua No niente Cos'era quella No Niente Attaquare Mesbilo No 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 Attaquare Ma anche le granate pure lui Se le procurate Distrailo 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 Luca Ti vogliamo sponare da distante Vieni fuori con la testina Dai Vieni qua Si è fatto saltare in aria un'altra volta Ma non è possibile Queste cose che fanno schifo Ok adesso si è fatto saltare in aria cripto E no io ho deciso di non partecipare alla cosa No fai bravo Fai bravo Non lancia Hai una pessima mira Luca Qualcuno te l'ha mai detto? No fai bravo Fai bravo No 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 Adesso una parte Adesso Ah e dai ma sono troppo forti Alla nona volta Una blueprint Aspetta che hai visto? Oh posso costruire i muri e le scale Aspetta provo con i muri Ma non fa nulla Luca Ma è tarocca questa cosa Non mi fa posizionare Ma non avrei abbastanza materiali Sicuramente quello E allora prenditi Passa qua Passa qua Ah c'è il cripto che mi sta minacciando Provala tu Che magari a te funziona Uuuu Riusci veramente a costruire i muri Dai Crea anche qualcos'altro Ma basta però con i muri Cos'è snake sta cosa? Calmati un po' Non funziona troppo bene Non sono Cosa sta facendo? Sì ma non sai nemmeno come costruire Guarda Aspetta faccio le scale Ma che razza di postacce hai fatto? Ma cosa stai facendo? Basta Luca a spammare cose Uuuu Gente 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 Cosa non ho trovato? Ah chi blocca gigante Luca viene a dare un'occhiata Qualcuno mi sta sparando? Luca Eh un NPC Uno di quei cosi cattivi Non è vero sei tu Ti ho visto col fucile Vieni qua subito Voglio aprirlo con te Anzi facciamo una bella cosa Aprilo tu Magari sei fortunato E ti capita qualcosa di bello Io mi tengo un pochino a distanza Vuoi vedere che sono fortunato? Ti odio Tu la tua fortuna Ho visto No Ah 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 Oh qualcuno in difficoltà Vengati questo No No le ragnatili no Porca miseria Ah è bastato una freccia E sei schiattato Come ho fatto a prendermi dentro la ragnatila Super potente Sono Spider-Man Luca Non te l'ho mai detto Vai via via vieni Luca Seguimi che andiamo un attimo Stai facendo Mi sono comparse cose Cosa Ma senza di me Ma si è detto Traditori maledetti Ti portiamo Ah se volete Cos'è? Io rendi impossibile il vostro passato Non volevo Non volevo crece Volevo soltanto Spaventare Ah no Presi quelli Luca No Sei buono Stai buono Stai buono Stai domani Capitudo Pargo proteggermi Via 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 Vai via 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 ok Ti spara luca Preso porca miseria che sta Iperato incredibile. E ora Pomodoro gigante come giro d'oro gigante il portino gigante Oh no fa il bravo guarda che ti piglio ti voglio male sai che ti capitano le frecce più sfortunate 1 no a E non posso nemmeno utilizzare tutte frecce normali Oddio besti anche per me Poi se andassi a fare una piccola esplorazione qui luca 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 e ci sono quasi Sparate Ok No, che che smitragliata fatti bravi che vi sparo anche. No le esplosioni Di piglio guarda che di biglio guarda quanti mob sorpreso sorpresa no 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 andate via sparo No, 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 fammi spaccare qualche blocco si normalmente il quarto l'acqua che sembra più fortunato No, no, fortunatissimo questo posto è pieno di lucky block E c'è un sacco di roba o mamma mia o mamma mia trovate un fucile a pompa o mamma mia sono solo qui nel villaggio e che Anche che ci spara Lui che ci spara Corri Quello lì ci sciotta Copertura dietro le auto dietro le auto assolutamente Cosa fa cosa faccio Ma fermo La rosa non di quattro Fermo fermo che c'è tante cosa c'è l'importante credo lo sai cosa fa un'auto quando si arrabbia con un cane ma che cosa c'entra Cosa cosa potete dire cosa fa un'auto quando si arrabbia con un cane gli abbaglianti Ah Oddio Adesso piglio pure lui Ecco che mi hai fatto morire tutta colpa tua cripto no luca guarda che questa volta mi vendico ti ho mancato L'arma o davvero a me no però Ci siamo sciottati a vicenda no mi ha ucciso cripto ma quindi se luca ucciso me e tu ucciso luca vuol dire che ora è il Il tuo turno cripto Invece sia il tuo turno Vieni qua copertura Fugina d'assalto vince su quello da cecchino sicuramente e ora luca tutto dove sei finito che abbiamo un piccolo duello in sospeso E lì in fondo se lì in fondo ma il giorno Cripto sbaglio o sei già 19 morti ma scusami ma ma anche mai mai visto come messo è un'illusione ottica E dici lo finiamo va bene spiti da un po di questi ma per farci cosa scusami cosa cosa ci faccio con questi Vibas e guarda cosa dobbiamo fare D'accordo d'accordo Dobbiamo tirarlo tutti insieme ok è tipo una scommessa dobbiamo decidere il punto tutti qua sopra allora tutti lanciano il loro forte Automatico cripto tu stai qui sopra vedrai che una bella cosa 3 2 1 Fuoco Cosa diavolo è successo È un esperimento fallito guarda che siamo creato un superforte Vediamolo dall'alto vediamo da qui è una cosa gigantesca tipo un superforte fatto di altri tre forti è il posto Perfetto per far terminare questa bella partita di No 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 Allontanatevi guarda un altro forte cripto lo vuoi cosa non l'ha visto cripto un forte per te Non farti del male da solo luca Perché l'hai costretta a farlo perché l'hai costretta a farlo Ai un maledetto Luca perché è stato un bravo compagno è stato un bravissimo giocatore ma aspetta oggi non è l'undici dicembre luca Sono quel cartello cosa a se qui Stiamo facendo il suo funerale perché sai la ventesima morte ciao ciao arrivederci ma il 7 ottobre dell'undici dicembre E vabbè ma è pure morto stupido Vabbè a questo punto direi che possiamo inizia non iniziata a costruire scale e propongo una cosa per rendere la sfida un po' più Frizzante che ne dite di aprire altri lucky block o magari facciamo una sorta di ruota della fortuna li apriamo qui allora pronti io ne Piazzoni poi non iniziare a spaccare subito poi ho dato il via ha dato campionata Penalità assolutamente una squadra per penalità 3 2 1 partite via Ah non è giusto Dai liberatevi non può essere può finire così non può finire così Penso che qualcuno abbia già ma sono morto io no vabbè ok anche io sono morto ok non Rifacciamo questo duello ok adesso adesso li apriamo e speriamo di non essere così sfortunati quanto prima Dio non sarebbe vabbè ma luca ma datti una calmata non è possibile subito Ecco questo che intese che si è salta un altro altro giocatore forn e sciottiamo lo sciottiamo lo che no però no però no però Ok spacchiamo un po di un po di lucky block e speriamo di essere fortunati e chino come cecchino No io direi che con con il lucky block non è andata troppo bene non decisamente è stato più Si può passare un ad un duello si potrebbe fare alla old wild west cosa dite una bella bistecca Come si facevano un tempo capisci dieci passi da chi si gira e ci si spara in testa pronti 1 2 Ok 4 5 6 7 8 9 10 Prenditi questo tannazione No no Missile era come è illegale non è vero mi hai visto Fuggire luca 1 Sono caduto Un assalto Mi ha sperato Oh 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 Guarda come ti figlio Guarda come ti figlio Dai dai Mi si è spaccato il fucile Non ci credo Oh Cosa Mi ha fatto Quindi gente questo è un altro episodio di lucky block giganti questa volta di fornite in compagnia di luca e cripto Non dimenticate di dirci chi secondo voi ha la vittoria lasciate tantissimi mi piace commenti Sta piovendo c'è la grandine ma basta è un po troppo grossa sta grandine non ci vediamo la prossima volta ciao ciao